Ciao, sono Elena di Biflex Italia e oggi vi presento un nuovo prodotto per la stampa digitale. Ciao, sono Elena di Biflex Italia. Se avete una stampante UV che utilizzate per altre lavorazioni, da oggi potrete utilizzarla anche per stampare sul termoadesivo. L'alta qualità del prodotto dona un risultato ottimale e duratura nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi. Grazie all'utilizzo della stampante UV velocizzerete di molto il vostro lavoro perché non dovrete attendere dei tempi di asciugatura che sono invece consigliati quando utilizzate delle stampanti solvent, ecosolvent e latte. Dopo aver stampato con stampante UV la nostra grafica, non necessitiamo di alcun tempo di asciugatura, quindi possiamo procedere direttamente con la sfridatura del materiale in eccesso e l'applicazione dell'application tape dove vi consigliamo di utilizzare il nostro Mylar. Rimuoviamo il materiale in eccesso. Applichiamo l'application tape, il nostro Mylar. Dobbiamo procedere ad eliminare tutte le bolle d'aria. Una volta eliminate tutte le bolle d'aria, dobbiamo rimuovere il liner. Giriamo quindi la grafica, prendiamo un piccolo angolo e rimuoviamo il liner. Ora abbiamo trasferito la nostra grafica sul Mylar e la nostra grafica è pronta per essere applicata. Vi ricordiamo sempre di pressare prima la t-shirt per togliere l'umidità e comunque rendere la maglietta opportunamente stirata. Centriamo la grafica sulla t-shirt. Ora siamo pronti per pressare la nostra t-shirt. Il film Print UV si pressa a 140 gradi per 10 secondi. Il liner va rimosso a caldo. Ecco la nostra grafica applicata. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a seguirci sui nostri canali social. Ciao! 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 Grazie a tutti.